L'attacco statunitense in Siria e l'attentato di Stoccolma non suscitano il panico sui mercati europei che archiviano l'ultima seduta della settimana con una prestazione piatta. Fanno eccezione Parigi e Londra che guadagnano rispettivamente lo 0,27 e lo 0,5%. Il Futsimib a Piazza Fari finisce appena sopra la parità. Le borse europee chiudono la seduta influenzate dagli indici di Wall Street poco mossi. Dopo la pubblicazione del dato sulla disoccupazione ai minimi da 10 anni negli Stati Uniti è quello sulla creazione di nuovi posti a marzo, inferiore al previsto. Dopo l'avvio debole del dollaro e l'euro a perdere nei confronti della valuta statunitense, scambiato a 1,061. In rialzo il petrolio con il WTI oltre 52 dollari al barile e il Brent sopra i 55. Sale anche l'oro portandosi a 1.266 dollari l'oncia, ai massimi da novembre 2016.